Siamo all'interno della villa comunale di Ribera dove ci sarà una importante manifestazione, si chiama Terra Nia, vedete alle mie spalle già gli stand dove andranno gli espositori per questa manifestazione che vuole essere un richiamo alla celebre fiera a mercato degli anni 70-80 a Ribera e quindi c'è questo tentativo molto importante di fare rinascere nei viali della villa comunale di Ribera che è bellissima, la facciamo vedere qua, questa manifestazione che possa essere da traino per l'economia ribese. Saranno presenti tanti espositori con la loro merce e con i loro prodotti per far sì che si possa finalmente ricominciare a frequentare questa villa comunale molto bella, molto importante per la nostra gittà ma soprattutto anche per la nostra provincia perché la villa comunale di Ribera è davvero un posto incantevole da vivere soprattutto quando si può passeggiare in sicurezza all'interno dei viali. Noi stiamo cercando di trovare l'organizzatore della manifestazione che è qui in giro per la villa comunale per le ultime disposizioni. Intanto vi facciamo vedere, andiamo nella vasca dei cigni per vedere come la vasca dei cigni che è stata ripitturata, è stata sistemata come è giusto che sia. Eccola qui, ve la facciamo vedere, la vasca dei cigni della villa comunale di Ribera dove ci sarà questa manifestazione molto importante, si chiama Terramia, verranno degli espositori un po' da tutta la Sicilia per dar vita a questa... Grazie.